Una regista iscritta al concorso un giorno mi manda un messaggio su whatsapp mi dice sai io stavo per venire a Nicosia perché c'è questo concorso ma purtroppo mi hanno tolto il passaporto, non potrò presenziare perché nei miei libri e nelle mie opere cinematografiche difendo i diritti delle donne e questo è andato contro il regime a volte essere un regista, esprimere le proprie idee tramite un'opera cinematografica ha delle conseguenze nella nostra vita ma questa persona, questa regista adesso è tornata in Italia e ci ha mandato un video il pubblico di Telenicosia Film Festival sono molto contenta che sono lì con voi con il mio cortometraggio Tempo di cambiare Tempo di cambiare racconta alle donne iraniane alla difesa e i riti delle donne ringrazio la signora Maria Teresa Lavia e il signor Fabrizio Trentacoste per essermi stati vicini in questi giorni molto difficili e ringrazio l'assessore Nando Zappia per essere lì a sostituirmi e spero che il prossimo anno sia lì con voi un abbraccio forte e un bacio grande grande e anche noi ti mandiamo un bacio Maria al prossimo anno ciao Maria speriamo di vederti quando che sia felici di saperti a casa ciao ciao ciao